Buongiorno, sono Alessandro Bonometri, sono Area Manager del gruppo Team System. Come ho conosciuto Paolo? Paolo l'ho conosciuto molti anni fa in un corso. Ovviamente nel corso degli anni l'ho sempre conosciuto come formatore, ma nell'ultimo periodo sicuramente ha dato modo di dare una spinta alla squadra, soprattutto sull'aumento di quella che era la proattività e la capacità di essere efficace nei confronti di quello che è un mercato, che è un mercato nostro, un mercato verticale, della pubblica amministrazione, mondo construction, e ci ha dato una mano soprattutto per scardinare quelle che erano delle convinzioni negative che avevamo nell'affrontare i nostri prospect, i nostri clienti. Di conseguenza quello che abbiamo fatto è fare un percorso con tutta la mia squadra una squadra di sei persone che nel corso di questi anni e questi ultimi mesi ha approfittato anche di sessioni dedicate one to one che hanno avuto l'effetto di aumentare sicuramente i volumi, quindi per noi è fondamentale facendo un lavoro di commerciali, di sales, i volumi, quindi ha dato la possibilità da parte commerciale di capire le motivazioni per cui questi volumi non erano tali da consentirci di raggiungere i nostri obiettivi. Nell'aumentare questi volumi, parliamo di circa un 30%, siamo riusciti ad arrivare ad obiettivi a volte anche inaspettati e quindi direi che il metodo che ci ha passato e quella che era, diciamo così, la focalizzazione che ci ha trasferito è stato sicuramente un valore aggiunto è un elemento che ci ha fatto fare un salto di qualità.